Siamo arrivati a Valladolid ragazzi e quello è il nostro hotel. Siamo in centro Valladolid ragazzi, come vedete, alle mie spalle avevo la Catedral di San Gervasio e qua le famose sedie per la coppia. E adesso ragazzi entriamo a mangiare in questo tipico ristorante. Io ragazzi vi sono preso questa agua del jamaica e invece Filippo si è preso la orciata, acqua, e abbiamo preso questo ordine di guacamole con totopos. E' becchia, quella storia si fa, guardate che bomba ragazzi. E adesso è preso il pulpo intero, e io ragazzi questo mega hamburger. Marinato con ricardo rollo. E invece Filippo guardate queste facchie di pollo. Wow, grazie. Che bomba. Provezzo. 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 Provezzo.